Si chiude il cerchio nel campo di Abruzzo insieme, la coalizione che fa perno sull'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e che racchiude tutte le forze alternative al centro-destra Trazione e Marsilio. La candidatura di Luciano D'Amico alla presidenza della regione, in vista delle imminenti elezioni, fino ad oggi aveva infatti messo d'accordo tutte le forze politiche che avevano avviato un percorso condiviso, meno una. Azione di Carlo Calenda, che in Abruzzo è guidata dal segretario regionale Giulio Sottanelli. Sottanelli, alle prese con un partito spaccato, che guardava in parte anche al centro-destra, aveva annunciato una pausa di riflessione per valutare al meglio la scelta. La lunga fase di impasse, che nelle ultime ore aveva indotto Abruzzo insieme a lanciare un ultimatum, è stata però interrotta questa mattina dallo stesso Calenda, che ospite di Alessandra Sardoni su Omnibus di La Sette, ha annunciato che il partito sosterrà d'amico e farà parte della coalizione. In Abruzzo c'è una convergenza di tutti, compresa Italia Viva e operazione. Sì, perché c'è un bravo rettore di università, una persona molto seria per bene e le elezioni regionali sono elezioni che hanno un sistema a un turno secco senza quota proporzionale, dunque sì, andremo in quella direzione.